Sta risplendendo il colore rosa-nero a Gussago, in questa città di Gussago. Sta risplendendo grazie al gruppo sportivo Ronco, che compie 50 anni. Rudy Breghini, presidente del gruppo sportivo Ronco, Maurizio Deglio Gallina. 50 anni a dirlo così, ma a passare ce ne vogliono degli anni. Eh sì, è un bel traguardo sicuramente perché per noi che ci siamo in questo momento, che ci siamo da parecchio tempo, e specialmente per chi l'ha fondato, i soci fondatori, che credo per loro sia un motivo d'orgoglio dopo 50 anni essere qui ancora con una squadra di ragazzi, di atleti, insomma ancora sulla Crestellonda, penso che faccia piacere a tutti. Fa piacere in particolare la città di Gussago, ma in particolare a Ronco di Gussago. Questa frazione che anno dopo anno ha fatto crescere ragazzi veramente non indifferenti. Uno fra tutti, Guido Bontempi, ma non solo. Perché se Guido Bontempi è andato fortissimo, dietro fortissimo sono andati anche i ragazzi che hanno praticato questo sport. Sì, perché dal GS1 sono passati centinaia di ragazzi. Poi dal 69 anno di fondazione al 2019, dopo 50 anni, mi pare 10, se non mi sbaglio 11, sono passati professionisti, alcuni come Guido che è un campione perché con le vittorie che ha fatto al Tour, Giro d'Italia, a Vuelta, insomma le classiche, e poi comunque anche tutti gli altri, quelli che sono passati professionisti hanno fatto onore al ciclismo sicuramente. E gran parte di questi ragazzi che hanno corso, che sono passati professionisti, che non sono passati professionisti, sono qua ancora a darvi una mano a voi, a dare una mano a un presidente giovane che continua a guardare avanti e mettere con l'entusiasmo giusto che gli ex corridori, ora imprenditori, sanno metterci. Beh sì, anche questa è una soddisfazione perché poi i ragazzi ne passano tanti. Però diciamo che la nostra è una scuola di sport e di educazione, perché poi i ragazzi nella vita si formano con lo sport, però vedo che tutti i ragazzi sono passati dalla società a Ronco, sono tutti bravi ragazzi e poi non tutti diventano campioni, quello lo sappiamo, però sono tutti bravi ragazzi, per noi è una soddisfazione. Anche noi ci siamo mossi e la regia ci manda delle immagini belle, emblematica. Questa vostra rotonda di Ronco, che è stata allestita da artisti non indifferente, bello, bel colpo d'occhio. Sì, ormai famosa questa rotonda e finalmente per merito anche, ci tengo a sottolinearlo, del Comune di Gussaro, del Sindaco Coccoli e tramite la pittrice Francesca Adamo che ha realizzato con i suoi ragazzi del liceo artistico, ha realizzato questa opera perché comunque è in forma artistica e per noi insomma fiora l'occhiello anche quello. La contea di Ronco è una contea importante di artisti, di gente che sa fare il fatto loro e più che altro che sanno onorare lo sport delle due ruote. E in particolare il ciclismo. Dicevi di quella gente che l'ha fondata. Sono qua ancora e sono vicini, ad esempio l'inverno, quando fate lo spiedo, tuo padre è il capo, mette là ore e ore e ore di sacrificio e poi è contento, felice quando vede tutta la platea che gustano questo spiedo. Sì, perché credo che per loro comunque è saci fondatori, vedere noi che portiamo avanti ancora tutto il gruppo sia una soddisfazione. Poi ce ne sono ancora diversi, uno tra tutti che è anche mio zio, presidente onorario, Breni Sandro, poi c'è mio papà, c'è Silvano Monbelli, Bruno Monbelli. Adesso tutti, non li cito però, prendo l'occasione per ringraziarli perché ci sono sempre vicino. Innanzitutto per lo spiedo, perché comunque non è indifferente, lo spiedo che fanno per tutti a novembre per sponsor e amici. Allora, leggiamo a questo punto, leggiamo l'organigramma della società. Presidente Rudy Braghini, presidente onorario Alessandro Braghini, vicepresidente Fabio Tenardini, segretaria Liviana Rossini e Milena Braghini Cassiera. Due donne che... Sì, ecco, sono diciamo le due donne del gruppo. Poi abbiamo anche le altre donne che tengo a ringraziare. Rimangono nascoste ma si sa quanto fanno. E lavorano sempre, anche quando facciamo le cene, i pranzi, sempre quando ci aiutano. Poi la Liviana e la Milena, quelle sono sempre con noi. I consiglieri? Giovanni Aquila, Angelo Bonometti, Cristian Bonfadelli, Omar Braghini, Claudio Codanotti, Cotiano Codanotti, Angelo Corini, Roberto Duina, Bruno Gozio, Giovanni Monbelli, Giorgio Reccagni, Fabio Rossini, Alessandro Rosola, Diego Tedoldini, Giuseppe Vezzoli. Questo è il vostro consiglio, un consiglio tenace perché per tutto l'anno deve essere attivo. Beh, quello sì. Diciamo che la forza del nostro gruppo è proprio quello, perché io li rappresento, però diciamo, me lo immagino come un motore, che tutti i componenti devono funzionare. E questo, insomma, siamo fortunati perché siamo un bel gruppo. E in più adesso abbiamo delle giovani lieve che sono entrate, i nostri ex ciclisti, ci fa ben sperare. Bella storia che continua. Dicevamo 50 anni del gruppo sportivo Ronco, ora Ronco Maurigi, Delio Gallina. Soci di società Guido Bontempi, Simone Braghini, Marino Codenotti, Samuele Codenotti, Sergio Perani, Franco Facchetti, Nicola Gozio, Andrea Codenotti. Praticamente sono ragazzi che hanno appena smesso di correre in bici e via. Li abbiamo coinvolti, ecco, perché comunque sono giovani, hanno la forza e hanno l'entusiasmo. E poi, insomma, su certe cose sono meglio di noi, specialmente dal lato del social e interno e queste cose, insomma, sempre un aiuto. Questa è la presentazione del gruppo sportivo per far vedere i ragazzi che erano gelando durante l'anno. Ma la festa vera sarà il primo maggio, sarà un'apoteosi di 50 anni veramente incredibile al giardino. Sì, anche quest'anno faremo il giardino e sarà la festa, la nostra festa quella. Oggi è una presentazione formale perché comunque dobbiamo presentare la squadra per il 2019, le foto della squadra. Però il primo maggio abbiamo deciso che quel giorno non correrà nessuno, faremo solo festa. Penso che ogni tanto ce lo meritiamo. Qui c'è la sala civica messa a disposizione dal comune, dal sindaco Occoli, che è molto vicino ormai da anni al di là della sua, il sindaco, ma lui è sempre stato vicino a voi con entusiasmo. Sì, infatti, cogliamo anche l'occasione per ringraziarli perché comunque quello che ha sempre fatto per noi è da vedere. Adesso c'è il ciclodromo che dovrebbero iniziare i lavori a giorni e dovrebbero finire, insomma, entro la primavera. Speriamo di poterlo inaugurare per la nostra festa il primo maggio e poi il trofeo comune di Gussago che è arrivato alla 45esima edizione. E parliamo proprio delle vostre organizzazioni. Il 24 marzo a Gussago, categoria Juniors, 45 anni del trofeo comune di Gussago. Vuol dire che le amministrazioni si sono state vicine a voi perché per 45 anni organizzare una corsa... Sì, non è facile. E poi diciamo che negli ultimi anni noi non abbiamo neanche questa categoria, però ci abbiamo tenuto a portare... avanti la tradizione e ormai è diventata una classica per gli Juniors. Poi quest'anno abbiamo una novità, faremo le strade bianche anche con gli Juniors. Siccome abbiamo avuto fortuna e è piaciuta la gara che abbiamo iniziato l'anno scorso, la gara che abbiamo proposto l'anno scorso come novità, le strade bianche lo vogliamo riproporre anche con gli Juniors. Perciò, attenzione ragazzi preparati, poi il 5 maggio a Ronco, categoria allievi, 15esimo trofeo, gruppo sportivo a Ronco, strade bianche della Contea. Anche qui saranno gli allievi impegnati in questa giornata. Ripeteremo esatto l'esperienza dell'anno scorso perché comunque ha avuto successo, tutti contenti, lo ripeteremo. Avremo anche la gara esordiente che è anche campionato provinciale e riproporremo questa soluzione che è piaciuta tanto. È piaciuta tanto ma poi anche i giovanissimi il giorno prima saranno impegnati e poi ancora c'è il 19 di maggio a Ome una corsa arrivata a ricordo del mitico Ernesto Bono. I suoi amici in particolare, buongiorno Renato, buongiorno e tutto lo stadio di Ome vuole ricordare questo campione. Esatto, noi loro ci hanno contattato, poi siamo in amicizia, ci hanno chiesto se volevamo partecipare all'organizzazione della gara. Noi con entusiasmo abbiamo accettato e il 19 maggio proponiamo una gara nuova. Altro che mollare qua, i colori rosa-nero continueranno a brillare ancora per 50 anni, innanzitutto perché voi siete tutti giovani. Perciò saranno orgogliosi lo staff appunto di questi dirigenti che l'hanno creato. Speriamo, ecco io colgo l'occasione per ringraziare tutto il mio gruppo, tutti gli sponsor, Maurizio e Delio Gallini in particolare, ma tutti perché non voglio dimenticare nessuno, però loro ormai da anni che ci supportano e insomma senza loro sarebbe difficile. Voglio dire ancora qualcosa, innanzitutto complimenti per la location che avete scelto davanti a questa chiesa di Gusago tirata a nuovo con questa scalinata, veramente un bel colpo d'occhio. Sì, infatti abbiamo detto proviamo a farla a Gusago davanti ai leoni, i leoni sono anche un simbolo di forza e penso che noi un po' di forza ce l'abbiamo. E beh insomma, complimenti Rudy, auguri. Grazie. Grazie. Grazie.